I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, in collaborazione con i militari della Capitaneria di Porto, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di un noto locale adibito a discoteca Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, per carenza delle dovute autorizzazioni. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D'Alessio. Nel corso di un'ispezione da parte delle forze dell'ordine, all'interno della nota discoteca, la più rinomata di tutta la fascia ionica, sono state rilevate carenze dal punto di vista delle autorizzazioni e potenziali condotte irregolari attribuite al legale rappresentante della società che gestisce l'attività commerciale di 1000 m2.